che siamo a numana lavori titanici eh ragazzi guardare che sbancamento qua stabilimento da marino stabilimento storico eh quasi numana guardate qua che roba fanno tutto a nuovo fanno veramente eh lavori da paura veramente guardate qua che sbancamento ci ha fatto speriamo che con la bolkestein venga tutto ripagato vedete qui bagno da marino 10 self restaurant bar pizzeria